ciao ragazzi ciao ragazzi bentornati qui su bb cool oggi non si cucina oggi semplicemente si fanno due chiacchiere due chiacchiere perché questo è l'ultimo video che giro sul terrazzo qui a giussano come vedete alle mie spalle il terrazzo già cambiato molto non c'è praticamente più nulla se non le piante tutti i barbecue hanno già preso un'altra strada tutti i barbecue sono in un deposito tutti i barbecue sono lì ad aspettare che cambiamo location se avete seguito le nostre peripezioni gli ultimi mesi sapete che stavamo cercando di cambiare casa abbiamo avuto qualche piccolo problema prima con una casa abbiamo avuto il problema dei venditori che si sono tirati indietro con una seconda casa abbiamo avuto un problema di ipoteche e pignoramenti non nostri naturalmente e poi finalmente abbiamo trovato la nostra soluzione definitiva quindi abbiamo inscatolato tutto e a me fa strano fare questo video non tanto perché voglio impietosirvi perché non è proprio il caso ma perché mi sembra strano lasciare questo terrazzo che è stata location di oltre 500 video nel corso di più di tre anni e mezzo anzi direi quattro perché sto girando questo video il 25 di marzo noi abbiamo iniziato mi sembra il 19 aprile di ormai quattro anni fa per cui avremo compieremo quattro anni a metà aprile ecco diciamo così siamo a riete per intenderci però questo è un terrazzo su cui ho sbagliato moltissimo su cui mi sono divertito su cui ho fatto per la prima volta tante cose su cui ho imprecato milioni di volte non tanto per la preparazione venuta male quanto per i 6.948 scooter in allontanamento per le persone che come dico sempre come amavo dire sempre vivono la vita un quarto di miglio alla volta per i camion che strombazzano per la gente che non si capisce perché qui di fronte voi magari non lo sapete ma c'è un distributore di benzina che ha un'entrata a dir poco assurda quindi non si non ci si capisce mai ed è per questo che si strombazza più non posso e poi i ciclisti che vengono quasi travolte dalle macchine le macchine che vengono quasi travolte dai camion gli scooter che vengono quasi travolti dai quad insomma ce n'era veramente di ogni ma era bello anche per questo no l'improvvisazione il trovare sempre così l'imprevisto l'imprevisto dietro dietro la registrazione non soltanto per la nostra incapacità di fare il 99 per cento delle preparazioni barbeco alla griglia ma anche soprattutto per tutto l'ambiente che ci stava intorno oggi non vi dico togliendo le ultime cose è una bella giornata è sabato se ne sono sprecate veramente di clacson ed è una cosa che mi resterà molto impressa e che mi metterà molto a disagio un po' come quando c'è stato lockdown il lockdown ha azzerato tutti tutti i rumori no e azzerando tutti i rumori mi sono trovato a fare qui video e nei video parlavo a voce quasi sommessa perché ero l'unica voce che si sentiva in tutto il circondario per cui ero ben più che in imbarazzo molto più che in imbarazzo in imbarazzissimo e quindi è stato poi il ritorno alla normalità che c'è un po' spinti lontano da questa casa che però resterà sempre dentro il nostro cuore perché abbiamo visto crescere i nostri figli abbiamo visto raccogliersi tanti ricordi altrettanti ne raccoglieremo nella casa che abbiamo scelto che sarà pronta tra un paio di mesi mi vedrete in una location intermedia grazie a un amico che mi ha messo a disposizione il suo giardino oltre che le brand per dormire e quindi vedrete un salto magari non subito perché è vero che io oggi sto girando questo video e da domani non sarò più qui però anche è vero che ci sono ancora dei video che abbiamo già girato e che saranno poi montati e pubblicati nei quali mi vedrete ancora qui quindi diciamo che almeno per quanto riguarda voi il distacco ammesso che vi interessi sarà non del tutto traumatico quanto lo è per noi intorno c'è un tramonto incredibile perché è una giornata terza piena di vento che ha portato via le nuvole che ha portato il resegone in tridimensione là dietro sembra proprio di averlo qui vicino e dietro vedo tutta la catena il monte rose eccetera è una roba pazzesca sembra quasi il migliore il migliore saluto per una location che dopo tutto sarà sempre nostra non mi auguro che chi verrà a vivere qui continuerà la tradizione un pochino delle grigliate mi piacerebbe ospitare il video di qualcuno fatto su questo terrazzo sulle pagine bibi cool bibi cool che naturalmente non si ferma state tranquilli continuerò a sbagliare tutto lo sbagliabile e continuerò a farmi aiutare da diana che è stata come sempre il vero motore del cambiamento quindi non soltanto una compagna di vita ma il completamento di una famiglia insieme ai ragazzi ecco credo di essere stato anche fin troppo romantico e commovente almeno per i miei gusti io vi ringrazio perché con le visualizzazioni con le mail con i messaggi sui social network mi date sempre la forza di continuare andare avanti sapete che questa non è la mia unica professione la mia prima professione è più il tentativo di veicolare una passione è vero che a volte vi faccio storcere il naso perché faccio dei video sponsorizzati ma come sapete sono tutte iniziative volte a rendere sostenibile il progetto proprio perché non campo di questo e quindi ho bisogno di non rubare il tempo ad altre cose senza che ci sia la sostenibilità economica ed editoriale dall'altra parte ho fatto tanti errori specialmente nell'ultimo anno e mezzo non tanto errori legati alle preparazioni quanto errori di gestione però almeno fino a nuovo ordine mi vedrete sempre in questa veste per cui con praticamente nessuno dietro la telecamera lo smartphone che mi riprende che riprende gli errori che faccio e le cose che produciamo io e diana senza mediazioni intermediari che insomma per il momento servono sì ma vabbè sto divagando non mi interessa neanche ragazzi salutiamo tutti insieme il terrazzo è stato veramente bello sarà ancora più bello ve lo garantisco però un pezzettino di cuore lo lasciamo qui non vi dico neanche come iscrivervi e come guardare un altro video tanto lo sapete vi ringrazio soltanto grazie di cuore ciao a tutti a presto